Ciao cari amici, oggi questa bella rossa, la conoscete sicuramente molti di voi, è sole retrogrado, al secolo Cinzia Mancuso, amica, allieva, collaboratrice, docente, responsabile della grafica, insomma se lei vince la lotteria l'accademia chiude, diventavete domani mattina. E sono molto felice di averla coinvolta anche a lei in un'intervista, era da tempo che ne parlavamo, mancava come molti di voi mi hanno fatto notare. Allora Cinzia, benvenuta, so che non sei stata bene questi giorni, quindi grazie di essere qui lo stesso mezza acciaccata, però devo dire l'aspetto è splendido, quindi insomma magari dentro no, però fuori sei veramente un sole. È un po' come la mela di biancanere. Eh, dici veramente. Senti Cinzia, allora tu sei una docente da tempo, ormai abbiamo fatto tanti corsi insieme, stai seguendo il nostro corso annuale per quasi tutto il primo modulo praticamente, quindi non ti chiederò cos'è per te l'astrologia, ma cos'è per te insegnare astrologia? Per me è la realizzazione di un sogno, nel senso che è una cosa che ho sempre voluto fare nella mia vita e ho avuto l'occasione appunto di specializzarmi in astrologia, un po' con tempo con altri docenti di altre scuole. E finalmente sento di poter coinvolgere chi magari ha delle problematiche, ma non perché magari non voglia, ma perché magari non ha tempo o non ha modo, che di appunto approfondire questa materia che è fantastica, dando un pochettino di pillole con la mia pagina di Facebook, ma anche appunto tramite i corsi che abbiamo organizzato con te, perché vedo che c'è tantissimo interesse e tantissime persone sono sempre più interessate a questa materia stupenda e a me fa molto piacere poter dare appunto la possibilità a tutti di approfondire. Esatto, guarda io, raccontiamolo per chi non avesse avuto modo di saperlo in altra occasione, alla prima lezione che Cinzia fece con me, la prima, la seconda, ma adesso proprio non mi ricordo la presenza e quale tantezza, lei mi disse, io ho visto il tuo seminario, io lo so che tu mi cambierai la vita, e io ero molto humor in mente, ma magari, voglio dire, te lo auguro, e insomma alla fine, oh, tra lei che mio improverava che non facevo le slide, tra una cosa e l'altra, aspetta aspetta ti faccio io la locandina carina, insomma eccoci qua, io trovo che Cinzia abbia di tutte le persone che io ho incontrato, alcune oggettivamente anche più anziane d'età e quindi con un passato nell'astrologia più lungo rispetto a Cinzia, lei però ha il dono di rendere facili le cose diverse, e in una materia come l'astrologia, che diciamolo, è complessa, non è per tutti, uno può avere anche tutta la scintilla che vuole, però poi è tanto studio, impegno, anche esercitare la propria elasticità mentale, nel capire che c'è una regola, ma poi la regola va comunque interpretata, applicata di volta in volta, quindi è una disciplina impegnativa. E lei mi ha colpito quando ha cominciato a lavorare sulla sua pagina, che raccontava cose estremamente di spessore, ma con un linguaggio piano che arrivava anche a chi stava, i segni sono 12 o 13, non mi ricordo, e lei ha questo dono divulgativo, probabilmente perché lei è del leone, che è proprio, sappiamo, il segno dell'insegnamento, no? Quindi questo sole l'aiuta a divulgare, infatti tutte le volte che poi abbiamo lavorato insieme, le ragazze l'hanno adorata, proprio per questa capacità di metterle al loro agio. Allora però voglio fare con te un passo indietro, no? Perché tanti dicono, oddio non me l'immaginavo, così difficile, non ci sto capendo niente, volevo solo sapere se sposare un pesce o un capricorno, e mi trovo a guardare il significato esoterico della casa come viaggio evolutivo dell'eroe, che effettivamente a volte non sai prima, no? Quanto possa essere comunque di impatto anche sulla tua vita, perché poi è come fare una seduta psicoanalitica, cominci a vedere i tuoi pianeti in casa quarta, ti rendi conto che c'è un problema con la famiglia che magari non ammettevi, o vedi i transiti e capisci che effettivamente un problema col partner c'è, anche se mettevi la testa dentro la sabbia. Comunque è una cosa che impatta sulla tua vita e ovviamente sul tuo percorso di formazione. Allora, tu che sei solare, racconta a chi ci ascolta perché bisogna superare questi momenti iniziali così difficili e perché soprattutto, cioè cosa c'è in gioco? Io ho sempre visto all'inizio quando studiavo l'astrologia, un po' come un chiavestello arrugginito che non si apriva, ok? Nel senso, è qualcosa che questa chiave continua e non va. Però c'è da dire una cosa, che quel momento in cui quella chiave fa lo scatto e tutto viene messo un po' sul piano, ti si apre un mondo. A me l'astrologia è servita tantissimo per capire le persone che ho intorno, i miei figli, il mio compagno, me stessa. E ti dico che mi ha dato veramente una chiave di lettura e il fatto di voler capire perché determinate cose sono successe nella mia vita e perché succedevano, mi ha dato quella spinta in più di non mollare. Perché è vero che il lucchetto arrugginito è difficile da aprire, però è anche vero che quando apre, più delle volte apre dei mondi che uno non si immagina. Che possono essere anche cose preoccupanti, nel senso, ma non preoccupanti di dire proprio questa cosa di me non l'avrei mai immaginato. Cioè, allora forse è per questo che mi capita questa cosa tutte le volte e quindi può fare un po' paura. Però è anche vero che scopri un sacco di potenzialità che tu magari non avevi. Per me, ad esempio, il fatto di insegnare. Cioè, è sempre stata una mia passione. Io vedevo anche che i miei figli mi divertivo anche a rispiegare di magari a volte le cose che non avevano capito a scuola o magari anche a lavoro, se c'è qualche nuovo arrivato che dovevo spiegargli le cose di come funzionava il mio ufficio, no? Mi divertivo. Però mi rendo conto che insegnare l'astrologia cioè, mi dà sempre questa carica pazzesca. Cioè, ogni volta che inizio una lezione nuova, un modulo nuovo, io, non lo so, mi sento friggere, capito? Ho proprio l'adrenalina. Allora, mi fai un giri perché c'è un sacco di roba che sta partendo. Sono contentissima. Tu non puoi capire quanto sono entusiasta, giuro. No, ma anche perché raccontavi delle cose molto giuste, a quel chiavistello arrugginito, no? È vero che finché non padroneggi le basi che hai una visione finalmente d'insieme, ti sembra tutto Dio, no? I simboli, gli archetipi, le case, incrociale coi segni, incrociale coi pianeti. Altro che un puzzle, voglio dire, a un lavoraccio. E lo sappiamo noi che l'abbiamo studiato e pensa che io l'ho studiato e neanche il computer, non c'era i calcoli, mi li facevo a mano. Non in mano, infatti. Perché, insomma, voglio dire, ho espiato, se è vero che c'è un karma, io l'ho espiato tutto. Ho capito i calcoli lì. Esci a fare la passeggiata, eh no, devo studiare a Napoleone, capito? Il caso di questo genere, ok. Però, detto questo, è vero che ti apre delle porte. C'è, secondo me, in questo momento storico, un grande bisogno di... Sì. Le persone sono, comunque, deluse dalla psicanalisi. È una cosa che nell'intervista ho detto spesso. perché sono percorsi molto lunghi, molto costosi. Non è detto che trovi l'analista giusto per te. È vero. E a volte hai bisogno di risposte più immediate. Non puoi aspettare, o vudi alle, no? Vent'anni, non anni, sì. Per poi cambiare analista e discutere cosa non andava con il primo analista. Infatti. Cioè, l'astrologia, ad un certo punto, sei in grado di cominciare a leggere da te le tue cose o quelle delle persone a cui vuoi bene. Quindi, è bello studiarla come percorso evolutivo personale, soprattutto in un'epoca come questa, dove, ahimè, tante cose mancano. Non abbiamo più una solidità economica, ormai, da lustri. Il mondo è in fibrillazione e, ahimè, con Nettuno in ariete, secondo me, non può esserci che una qualche recrudescenza. Magari sarà anche la volta che si sistema una certa situazione una volta per tutte, ma non sarà una cosa semplice. Soprattutto perché Nettuno, ahimè, ha un passo molto lento, quindi ci fa pensare a problemi che vengono macinati e ruminati molto a lungo. In Italia, specialmente, non abbiamo governi, voglio dire, che ci fanno innamorare perché all'improvviso ci rendono libri. E non ne faccio questione di centro-destra, sinistra, verdi, gialli, canarini o pinguini. Sembra sempre che la situazione sia così complessa che nessuno riesce mai veramente a metterci mano e a far decollare di nuovo questa nazione. Allora, la politica, no? La fede ormai è accrollata, anche per scarsa stima, comunque delle strutture ecclesiastiche. E anche qui parlo di tutte le religioni. La psicanalisi è lunga e non ti dà le risposte che cerchi. Ad un certo punto, l'uomo nel suo cammino, una qualche guida, un gancio in mezzo al cielo, lo deve trovare. E quindi c'è una grande, grande richiesta di astrologia, di esoterismo, di medicina naturale, di approcci diversi alla conoscenza. E noi siamo un po' i sacerdoti, diciamo, no? Di questo risveglio. E io ho capito ad un certo punto che non mi bastava fare i consulti, perché aiutavo le persone singolarmente, ma siamo pochi. Poi alla fine gli astrologi, o meglio, se devo contare la gente che sto intervistando, in realtà sono tantissimi, che è un anno che vado avanti e ancora non ho minimamente finito. Però le persone nel mondo che la praticano sono poche. Secondo te, cosa potremmo fare di più per accendere la fiaccola nelle persone? Oddio, sai, a volte bisogna aspettare anche che sia la persona che faccia il passo, secondo me. Perché sennò rischi che non è pronto. Vero, eh? Sì. Nel senso che bisogna rispettare i tempi di tutti. A volte mi è capitato di fare delle lezioni a delle persone che avevano iniziato così, per scherzo, ok? E da lì non hanno tratto niente, non hanno capito veramente che cosa vuol dire, nel senso che si sono limitati a registrarsi su alcuni portali dove davano l'oroscopo personalizzato, giusto per non leggere Paolo Fox. Ok? Ma lo scopo non è quello. Ora, rispetto a parlare di Paolo Fox, ovviamente, nel senso, per leggere un oroscopo generalizzato, il senso di quello che io volevo passare però non era quello. Cioè, il senso era hai il tuo destino in mano, ok? Hai la possibilità di plasmare quello che ti potrà capitare, che ti potrà succedere, quello che sei, ok? o quantomeno se non plasmare, di comprendere al pieno. E se tu questo non lo recepisci, non sei ancora pronto, secondo me, per la astrologia. Quindi bisogna rispettare i tempi delle persone, perché non tutti purtroppo sono pronti. Ti dirò, non saprei nemmeno io che cosa fare. Certo è, sicuramente continuare a diffondere, sicuramente cercare di unire le diverse tipologie, perché alla fine è sempre astrologia. Puoi chiamarla karmica, puoi chiamarla come puoi, Però è il nostro filo conduttore e secondo me è importante che ci sia unione tra di noi su questo, perché altrimenti rischiamo di fare dei fronti compatti ma non allineati, capito? Questo non aiuta. Io credo comunque, sai, guarda, io sono molto orgogliosa del fatto che a settembre mi siano partiti quattro corsi in totale gli studenti viaggiavano sui duecento quasi e sto che ho risultato interessante e che credo dovuto anche al fatto che nella nostra accademia ci sia una sostanziale apertura di vedute. Io non credo al karma, però solo il karma c'è e via discorrendo, comunque credo che l'importante sia toccare un po' le anime di ciò. La regina Elisabetta prima disse, quando c'erano i problemi di accettazione delle due confessioni in Inghilterra, disse io voglio solamente la pace, io non voglio aprire finestra sul cuore degli uomini. Ecco, io sì, io vorrei aprire finestra sul cuore degli uomini e cercare di far arrivare a chi lo chiede, per lo meno come giustamente tu dici che è pronto per questo tipo di percorso. Anche per questo faccio pubblicità estensive, tanti video, tanti articoli, perché penso che tanto statisticamente di fronte alla persona giusta ci arriva. È una legge di attrazione, se sei pronto per un certo messaggio prima o poi quel messaggio ti senta davanti. Sì, quello sì, appunto, se sei pronto, come giustamente hai detto. Io non ti nascondo quando tu all'inizio hai detto io se vi un tuo corso capitai su quella su quella locandina per puro caso, ok? Sebbene avessi già fatto dei percorsi che non ti nascondo alcuni mi hanno dato delle grandi basi, alcuni mi hanno assolutamente fatto capire che non facevano per me, quando vedi il tuo corso io rimasi estasiata. E guarda, io non mi entusiamo facilmente perché lo sai non sono una persona che si strappa i capelli dalla gioia, cioè, ma quando vedi quello su il significato l'area è nascosta delle case, lì giuro, io ho detto ma questa da dove è uscita? Ma lei lo sa che farà parte della mia vita tutta la vita, non si libererà mai più di me perché io devo sapere tutto quello che sa. Perché, come hai detto te, capitai per caso e quel caso ha fatto centro, capito? E a me piace pensare di fare così con le persone, cioè, non dico che voglio diventare come te perché ovviamente non è una questione di... No, no, ma io... Guarda, allora, io un giorno andrò... Però mi entusiasma questa cosa, io non so se poi quando faccio le lezioni passa questa cosa, io allora ho la tendenza a fare battute, a fare, a dire continuamente sciocchezze, a metterle sul ridere perché secondo me una lezione fatta dove uno piglia punti in maniera compulsiva e non ha tempo neanche di alzare il diritto, scusa, non ho capito, ma per me non è una lezione perché deve essere una dialettica, capito? Uno scambio di energie dove io ti spiego, dove tu assimili però è anche giusto che ci sia un confronto, no? E quindi per me questo è... Però ti dico, la tua lezione mi ha fatto veramente capire che cosa voglio fare nella vita, la grande. E speriamo di riuscire ad accendere la stessa luce in altre persone che magari, sai, anche più giovani quindi più tempo in cui queste persone andranno nel mondo a divulgare costantemente questa cosa. Senti, ma come astrologa al di là del fatto di questi corsi che tieni da sola in compagnia eccetera eccetera e della tua bella paginetta di divulgazione che deve crescere perché fa un lavoro meritevole. Grazie. Magari hai qualche altro progetto, qualche cosa che ci stai mettendo pensiero con fidati con noi. Allora, Valentina, secondo che sul territorio dove vivo sto cercando di diffondere il verbo e quindi sto proponendo diversi aperitivi astrologici anche in collaborazione con delle colleghe che arrivano sempre dalla tua scuola perché sono vicino qua a Milano e quindi vedo un pochettino che cosa facciamo organizzare. È bellissimo lavorare sul territorio chiaramente quella è una cosa che la mia accademia non poteva mai fare perché è nata con l'idea dell'online in tutta Italia mi hanno proposto facciamo convenio ma sì una volta ogni tanto ci si può riunire tutti per fare una pizzata però non è un'attività in loco chiaramente se qualcuno si coltiva il territorio è la cosa più bella. Guarda non ti nascondo che sarà questo mio aspetto un po' mercuriale ok sto veramente tanto puntando su questi aperitivi astrologici bello cosa di mentre ti fai capito l'aperitivo spieghi racconti e un pochettino dai delle nozioni a me questa cosa mi fa proprio cioè mi diverte nel senso mi piacerebbe capito partecipare io in prima persona come soggetto quindi immagino che infatti non ti dico che ho avuto diverse proposte che sto valutando adesso in questi giorni purtroppo sono dovuta stare ferma perché per motivi di salute però adesso che sto riprendendo un pochettino piede addirittura proprio questa mattina che ho accompagnato mia figlia per delle lezioni per un sito del paese dove viviamo con la quale lei sta collaborando l'insegnante mi ha proposto di magari propormi anche alle scuole che sarebbe per me fantastico perché ovviamente insegnare anche ai ragazzi sarebbe top assolutamente mi sembra un progetto forse ancora un po' troppo guarda allora nelle scuole se trovi il preside illuminato puoi fare un lavoro bellissimo sì dato che ho tanti amici tra cui Francesco Mandolfi per esempio ho reso artistica e poi chi altro adesso qualcuno mi aveva detto qualcosa l'importante è comunque Antonella Magretti anche che non è una collaboratrice dell'accademia ma una nota astrologa è appassionata di astro nelle scuole se tu sposi l'astrologia a non so la storia dell'arte piuttosto che la storia per esempio latino-graco-romana i miti gli archetipi i presidi te lo passano un piano insomma di intervento fatto bene e nella scuola comunque i soldi viaggiano perché comunque sono anche obbligati a proporre delle attività formative extra proprio da diciamo così normativa vigente quindi è chiaro che rispetto al corso di scacchi che significa anche installare materialmente delle postazioni invece un corso che spiega i miti collegati all'astrologia e all'arte può essere per esempio una cosa interessantissima per cui è bello e anche perché poi quelle è l'età in cui è più facile accendere una scintilla no? ecco sono spugna a quell'età ai ragazzi quindi sarebbe bellissimo che tu potresti davvero al di là della mia accademia fare un tuo corso bebe non immagino nessuno più adatto di te a prendere medie liceali diciamo no? questi percorsi giochiamo e impariamo te lo vedo tantissimo si sa effettivamente però io ti voglio coinvolgerlo a parte che noi dobbiamo sempre mettere in mano i famosi serial killer diciamolo io e Cizia abbiamo fatto uno studio abbastanza approfondito sui serial killer diciamo che lei ha fatto l'ottanta per cento finora poverina perché si è stampata tutti i dati tutte le cose le biografie ha fatto anche delle slide già pronte bellissime però ovviamente ci sono già testi e lavori in circolazione su questo materiale quindi vogliamo essere sicuri di dire qualcosa di nuovo di diverso rispetto a quello che è stato detto prima io vorrei dargli un po' un taglio trova il serial killer che è in te che sarà acquistato da tutti gli scorpioni da Milano a Palermo e vorrei sinceramente trovare il tempo di fare questa cosa e poi credo che sia venuto il momento che io te ma anche magari Erika e Roberta insieme creiamo il libro di testo del corso annuale sì ecco questo perché tutti i ragazzi ci chiedono ma io sì belle le lezioni gli appunti le slide i libri da scaricare proprio un va de me un sarebbe almeno col taglio che diamo noi chiaramente perché poi insomma non è che manchino libri base di astrologia anche se devo dire purtroppo a parte la guida all'astrologia dicevo di Scepolo che però secondo me si legge come approfondimento non è un testo proprio per i neofiti ci sono solo manuali morpurgiani e con tutto l'aspetto dei manuali morpurgiani prima devi sapere cosa diceva si diceva prima dell'amor purgo e poi se no non capisci l'innovazione che lei fa guarda non ti nascondo che questa cosa è una di quelle che mi stuzzica lo sai da tempo perché io sono una fan delle slide e ci tengo che le ragazze che fanno il corso con me abbiano una base che poi possono appunto scattare le mani esatto e spesso mi viene da pensare appunto di preparare e di proporre come tu hai già tra l'altro proposto diverse volte una sorta di tra virgolette passami il termine bibbia dove tu da lì prendi praticamente tutto il tuo corso le tue 40 lezioni e attingi tutte le informazioni che non vuol dire necessariamente io adesso ho quello non piglio più appunti non studio più niente basta che mi leggo quello però è come dire non mi viene in mente quella paralicia che consulto un attimo al volo capito? ecco che secondo me scusamente ma non solo per questo perché io devo dire la verità facciamo i corsi c'è la classe poniamo 40 persone poi quelle 10-15 che seguono costantemente in differita ci sono perché chi ha i bimbi piccoli la mamma anziana da curare insomma la vita di tutti noi allora per coloro che purtroppo non riescono nella loro vita ad inserire una frequenza live dici vabbè mi vedo il video però c'ho anche il libro di supporto allora fra le due cose comunque riesco ad ottenere della conoscenza della sapienza ecco su questo ma io non ti nascondo che il tuo corso essendo perché io l'ho fatto ok e parlo proprio in condizione di causa nel senso che ho fatto diversi corsi il tuo è quello più completo è quello che magari non ti dice esattamente il tuo aspetto ok però ti dà una visione dell'astrologia talmente completa che altri corsi non ti dà e non ti nascondo che a mio avviso se tu riuscissi appunto a incanalare in questa sorta di bibbia tutto quello che passi all'interno del tuo corso che è tantissimo ok potrebbe essere anche qualcosa un manuale venduto anche al di fuori nel tuo corso tranquillamente un libro che diventa veramente nel futuro una sorta di vademejum per tutti quanti è vero guarda io devo dire una cosa io mi sono resa conto di recente rivedendo alcune mie lezioni per elaborare i video che quello che io dico ma anche quello che dicono i miei docenti che bene o male sono persone di alto livello tutte da te ad erica a cugini e tutti la mazzeria a store e tutti quelli che circolano che poi alla fine quello che dai non è solamente le nozioni no le trovi su google ma c'è dentro tutti i libri che abbiamo letto tutta l'esperienza dei consulti tutti i convegni che abbiamo assistito le discussioni con i colleghi e quindi nella lezione poi tu trasporti un sapere che non esiste un testo dove tu dici io tutto quel sapere lo trovo riassunto lì no perché è il frutto della conoscenza esatto dell'esperienza anche no io lo dico sempre lo dico a tutti coloro che collaborano studiano o attraversano la mia strada come il prete tutti i giorni legge il breviario un astrologo tutti i giorni in un tema lo deve guardare la nonna la zia la vicina Napoleone che so io però stare lì a ragionarci un po' perché se non affini questa capacità interpretativa puoi raggiarti anche la biblioteca d'Alessandria ma non ne cavi comunque ragno dal buco cioè ci vuole l'esperienza che poi è quello che forza è la cosa più difficile da trasmettere ma fa diciamo maturare le persone perché nella pratica tu cominci a capire veramente l'essenza e sì un testo dove un po' di questa abilità interpretativa che chi come noi ci lavora ha maturato ci dovrebbe essere proprio anche per dire io intanto mi leggo il libro se è una cosa che mi intriga faccio il corso oppure che è un impegno voglio dire decisamente più ridotto però sì quindi sappi che aperitivi astrologici nel milanese e assassini di vario colore ci dobbiamo assolutamente infilare anche questa cosa qui anche perché io ammetto che a scrivere cose molto basse non ci riesco e quando spieghi le case e i segni devi pensare a una persona che non ne sa nulla io comincio sì perché il pesce l'anima dell'universo e uno ma guarda che stai abbiamo proprio un approccio diverso su questo e non ti nascondo che infatti mi è stato anche fatto notare e mi hanno detto amata per l'amore di Dio bravissima perché comunque ti trasmette un sapere molto articolato però a volte manca proprio la base e tu riesci in poche parole a spiegarci cosa in realtà poi serve per capire quello che poi spiega amata e fai cosa io mi metto sempre molto nell'ottica lo spiego come se lo dovessero spiegare a me e come io vorrei che mi venisse spiegato proprio base 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 passaggio proprio a b c capito in maniera tale che non ci siano intoppi e ci tengo sempre quando faccio lezione a continuamente a chiedere ci siete avete capito tutto esatto non rimanete indietro perché se manca un tassello è un po' come la maglia di lana ma anche quel passaggio poi si sfila invece se tu hai tutto sei sicuro che poi il discorso tiene e questa cosa funziona assolutamente ma infatti devo dire la verità allora quest'anno è stato il primo anno questo i corsi partiti da settembre dove ovviamente non essendo io un'etrina ho dovuto chiedere già dal modulo base ad alcune persone di tenermi le lezioni e devo dire che questa cosa che io li tengo diciamo a battesimo con tutta un'introduzione poi arriva qualcuno che glielo spiega in modo semplice e basilare poi torno io avete visto tutte queste belle cose adesso ve le faccio vedere anche in un'altra ottica un po' più un'ottava superiore sta funzionando molto bene perché le persone godono di un docente che si sa mettere come te nei loro panni di neofiti e quindi gliele rende proprio chiare e poi ogni tanto arrivo io che li faccio svolazzare nell'universo e io mi annoio anche meno perché capisci che comunque dopo 35 anni sì perché la riete segno di fuoco oddio un po' mi stanca mentre oggi come oggi mi appassiona parlare di quelle cose più evolute le case derivate le cose nascoste ecco queste cose qui bene Cinzia io ti ringrazio era importante che ci fossi anche tu in mezzo a tutti i nostri docenti assolutamente pubblicherò quanto prima questa intervista anche perché logicamente abbiamo tanti corsi anche in partenza quindi è giusto che sappiano chi è questa bella ragazza di sole retrogrado continua così ti do un bacione grazie grazie a tutti di essere stati con noi grazie 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 grazie